molto breve anch'io grazie presidente ferroni un saluto al signor sindaco al presidente della regione prefetto all'autorità senatrici deputati presenti e naturalmente a tutti le lavoratrici lavoratori ricercatori molto brevemente noi abbiamo scelto di essere qui per i due anni del governo e poi saremo in un'altra azienda in un'azienda ancora in abruzzo in uno dei luoghi dove in queste ultime in questi ultimi mesi si sono ottenuti i primi risultati del cosiddetto jobs act cioè le prime assunzioni per dare un messaggio che è questo noi abbiamo fatto nei primi due anni tanto lavoro poi qualcuno lo condivide altri meno ma sta nella regola del gioco nella regola della della politica sulle riforme la legge elettorale la riforma costituzionale le stesse riforme della scuola del lavoro l'abbassamento delle tasse tutte questioni su cui ciascuno la può pensare in un modo o nell'altro ma che sono ormai dei dati di fatto il punto è che queste cose riguardano il passato non il futuro dell'italia cioè è evidente che la legge elettorale riguarda il futuro ma è una discussione che è aperta da vent'anni è evidente che la riforma costituzionale riguarda il futuro ma una discussione che aperta da 70 anni qual è la vera scommensa è quella di immaginare dov'è il futuro dell'italia non soltanto dov'è il presente se volete il passato della discussione politica io penso credo che questo sia uno dei luoghi in cui si tocca il futuro del paese il futuro dell'italia per noi è nella ricerca nell'innovazione il mondo sta cambiando a velocità impressionante e questo cambiamento che è in corso nel nostro pianeta non soltanto nel nostro paese è un cambiamento che porta sempre di più a investire sull'intelligenza sul talento sulla creatività e sulla ricerca sulla curiosità e sullo studio da questo punto di vista l'italia ha bisogno di semplicemente ritrovare se stessa perché c'è un racconto che negli ultimi vent'anni ha avuto la meglio in cui vita per il quale l'italia è soltanto crisi in questo settore ed è soltanto crisi vuol dire che si fanno grandi elogi per chi va all'estero e si ritiene che chi sta in italia non abbia alcun istituto di ricerca all'altezza vorrei essere chiaro è giusto andare all'estero è giusto fare esperienze all'estero il racconto è molto molto banale manicheo dire all'estero bene all'italia male o viceversa non è così il mondo globale interconnesso e quindi come ci sono 700 ragazzi e ragazze donne e uomini che vengono qui dall'estero e qui fanno la loro scommessa di vita o comunque una parte della loro scommessa professionale è altrettanto vero che altri di noi fanno ricerche con in tutto il mondo non bisogna continuare ad aver paura del mondo senza senza frontiere ma bisogna far sì che i nostri istituti siano all'avanguardia la fisica italiana è tra le più forti al mondo nella sua storia per la sua potenza per la sua grandezza la scuola italiana una scuola che ci rende orgogliosi noi abbiamo una grande responsabilità continuare questa storia se possibile innovare ed è necessario innovare non è soltanto possibile l'infn parte di questa scommessa è una parte qualificante lo sa il presidente ferroni lo sanno i suoi collaboratori lo sapete tutti voi l'infn è una delle realtà più importanti del mondo dall'infn sono usciti tanti talenti in passato oggi fabiola gianotti nasce da qua nasce da questa storia della direttrice del cern del forse di uno degli istituti più importanti a livello internazionale ma le principali iniziative le principali scoperte anche di questo ultimo periodo vedono comunque anche in parte la nostra firma la vostra firma penso alle onde gravitazionali a ciò che è accaduto a cascina nella nella co partnership con gli americani vi segnalo che lo dico ai giornalisti che sono tre i centri di ricerca da cui è stato possibile lavorare sul grande tema delle onde gravitazionali due di questi diciamo due i due i tre centri ricerca leader due di questi sono gli stati uniti uno è in italia e credo che qui al gran sasso science institute ci siano gli ho salutati prima alcuni dei ricercatori che hanno lavorato su questa su questa scoperta gran sasso science institute che è una realtà che sembrava impossibile immaginare anche soltanto fino a qualche anno fa e che grazie al lavoro di tutti a partire dagli studiosi professori e anche dagli enti locali è una delle realtà oggi presenti e forti nel mondo bene tutto questo per dire che cosa che siamo a prender atto di una situazione straordinariamente forte chi racconta che l'italia è soltanto un problema in questo settore dice una bugia basta no perché negli ultimi anni abbiamo visto venir meno dei fondi e questo è un errore ed è il motivo per il quale per la prima volta non soltanto si è arrestata la caduta del finanziamento l'infn riceveva 230 milioni lo scorso anno e sempre meno negli ultimi anni ha perduto almeno il 15 per cento del finanziamento noi quest'anno abbiamo riniziato a restituire una parte dei soldi da 230 siamo andati a 245 ancora non basta oggi siamo qui per annunciare un finanziamento straordinario di 60 milioni su un progetto che l'infn nel corso dei prossimi settimane mesi metterà in atto e quindi i 60 milioni necessari a far sì che il gran sasso meglio che i lavoratori del gran sasso poi c'è anche il tema della legge sul gran sasso science institute ma diciamo i 60 milioni necessari perché si possa intervenire sulla manutenzione e sulla innovazione e sulla grande battaglia la grande sfida per la materia oscura non soltanto in quel settore ci sono e sono soldi che noi metteremo a disposizione fin dalle prossime settimane e mesi e cialente applaude perché l'applauso l'ha fatto partire cialente segnalo non ricerca perché tutta la parte filosofica cialente non è piaciuta granché poi siamo arrivati alla parte della valorizzazione esistenziale e lì invece è stato significativo e ne approfitto per dire che questo tipo di attività è per me una delle priorità su cui vedrete lavorare nei prossimi due anni dunque occorre un patto da un lato bisognerebbe smettere di raccontare l'italia soltanto in negativo in questo settore perché è un'offesa alla scuola italiana e a ciò che rappresenta dall'altro però bisogna che la politica faccia di più e meglio ed è un impegno credo che possiamo prendere insieme detto questo e detto che andiamo in questa direzione ne approfitto ancora 30 secondi 40 secondi per ringraziare il sindaco cialente presidente d'alfonso e tutti gli amministratori per ciò che sta avvenendo all'aquila arrivando da fuori si vedono tante gru mi hanno spiegato che sono 92 sta ripartendo finalmente il lavoro nel centro storico era un impegno che c'eravamo presi io al 25 di agosto ho detto che sarei tornato dopo un anno quindi oggi non parliamo dell'aquila ne parleremo nei prossimi mesi quando vedremo a vedere fisicamente i cantieri che stanno comunque lavorando finalmente sono arrivati i soldi ci sono tutti per fare un ottimo lavoro ci sono i soldi per gli investimenti e per il rilancio dell'attività in questa città così straordinaria e così duramente colpita e ahimè dopo dimenticata ma siamo passati dalle chiacchiere ai fatti e credo che sia un fatto importante positivo e adesso la vera scommessa è quella di riuscire a tenere insieme dalla cultura all'innovazione alle imprese alla ricerca questa città come una delle città in cui si tocca con mano la ripartenza dopo il terribile sisma del 2009 tutto questo mi porta a concludere sono stato fin troppo lungo adesso andiamo a chieti andiamo alla valtertosto che il punto cruciale di questi due anni non è guardarsi indietro per quello che è stato fatto ma guardare avanti guardare avanti per il governo il governo ha due anni davanti e deve non sprecare neanche un giorno per rilanciare l'italia ma guardare avanti soprattutto come paese e sotto questo profilo lasciatemelo dire l'università la ricerca l'innovazione gli istituti che hanno bisogno è un impegno che ci siamo presi al CERN Ferroni era lì e con lui la sua giunta e lo confermo cioè nella riforma della pubblica amministrazione liberare dai vincoli della pubblica amministrazione gli istituti più prestigiosi quelli che hanno la possibilità di competere a livello internazionale evitare che siano costretti a stare alle stesse regole a cui devono soggiacere le ASL insomma un istituto nazionale con tutto il rispetto per le ASL un istituto come l'istituto nazionale fisica nucleare ha bisogno di regole più semplici di possibilità di competere con gli istituti privati perché poi quello che abbiamo visto a qualche metro in profondità è lo stesso che poi accade in tutto il mondo ci sono due progetti accanto che cercano di farsi competizione tra di loro perché la competizione è una cosa bella però allo stesso modo sappiamo che dobbiamo competere con i nostri amici americani con i nostri amici tedeschi con i nostri amici israeliani con i nostri amici cinesi con cui pure abbiamo anche molte cooperazioni e collaborazioni ma questo è quello che deve fare un istituto di ricerca oggi al mondo essere il migliore semplicemente e l'infn e il gran sasso possono andare in questa direzione bene allora e ho terminato cos'è che ci caratterizza perché siamo qui dopo due anni per dire che la sfida più bella deve essere ancora vinta è la sfida della curiosità dell'innovazione della ricerca per farlo vorrei fare un gigantesco in bocca al lupo ai ricercatori se volete andarvene andare all'estero fatelo siamo pieni di presidenti del consiglio di ministri che dicono non andate via per carità come come se fossimo la mamma preoccupata che uno esce di casa se volete andare perché pensate che per il vostro piano di studi sia meglio andare all'estero fatelo noi quello che faremo è fare dei nostri istituti i luoghi al top a livello mondiale per cui non sia una scelta di buon cuore quella di restare in italia perché magari mi fanno le pappardelle meglio perché sono vicino a casa ma noi vogliamo fare dell'italia un centro che sia capace di attrarre di attrarre in primis i giovani italiani se ci sarà possibile ma anche i giovani di tutto il mondo è quello che si tocca con mano qui dentro 30 per cento di italiani 70 per cento di stranieri trovo sempre gli articoli sulla fuga dei cervelli mai sulla attrazione dei cervelli e contemporaneamente che facciamo ormai in tutti i luoghi nei quali la competizione globale dunque l'impegno di oggi non è soltanto dei 60 milioni l'impegno che pure cialente ha evidenziato l'impegno di oggi è quello di riuscire a fare sempre di più dell'italia la patria del futuro non soltanto un luogo nel quale ricordiamo il passato e il passato della fisica nucleare in italia è straordinario persino io ho capito quindi se l'ho capito io l'hanno capito tutti però la pagina più bella deve essere ancora scritta il nostro augurio è quello di scriverla insieme in bocca al lupo a tutti e buon lavoro e buona vicenda